I giovani sono una risorsa preziosa per la scuola cattolica, ne costituiscono le fondamenta e ne garantiranno il futuro. Papa Francesco ha recentemente affermato Non c'è possibilità di ricominciare senza di voi, cari giovani, per rialzarsi il mondo ha bisogno della vostra forza. I giovani, nella loro individualità e nel loro potenziale educativo, creano una risorsa importantissima per il futuro della società. Se ogni singolo ragazzo si impegna nell'apprendere e nell'approcciarsi al meglio nell'ambiente educativo nel quale è inserito, si porrà come risorsa sicura per il futuro e, come dice Papa Francesco, per il mondo. Abbiamo voglia di futuro e siamo consapevoli che con il nostro impegno quotidiano possiamo costruire qualcosa di grande. In questo periodo particolarmente difficile, l'unione fa la forza. La scuola garantisce la formazione di uno spirito di comunione, collaborazione e rispetto reciproco tra insegnanti, alunni e genitori. La comunità cattolica, identificandosi nella scuola, può basarsi su di essa per trovare un luogo che garantisca pace ed armonia. L'educazione è il principale strumento per promuovere una società nella quale l'individuo ha le stesse possibilità, indipendentemente dalle condizioni di partenza. Riceviamo un contributo importante dalla scuola, che non può essere sostituito da nessun'altra realtà educativa. È fondamentale per garantire una crescita serena e sicura inoltre i figli. Ashton, insieme futuriamo. Perché le scuole cattoliche, ognuno con la propria singolarità, hanno tuttavia un volto comune. Dobbiamo costruire assieme il futuro, lavorando nel presente. I giovani sono il futuro e offrono la garanzia di una prosecuzione dei valori appresi dalla scuola, dall'ambiente in cui vivono e dal contesto familiare in cui sono inseriti. La scuola, in particolare, offre un coinvolgimento educativo di tutti, senza differenza alcuna, in un ampio ambiente di comunicazione. Il dialogo costruttivo tra alunno e docente, la voglia di mettersi in gioco da parte di entrambi e un impegno costante garantiranno delle solide basi per il presente, ma soprattutto per il futuro. Il nostro compito è fondamentale e non possiamo disattendere l'importanza di edificare un'alleanza educativa con i giovani e le famiglie, in un contesto sociale dove tutti siamo responsabili nella costruzione del villaggio globale della civiltà dell'amore. Hashtag, insieme futuriamo. Perché le scuole cattoliche, ognuna con la propria singolarità, hanno tuttavia un volto comune. La scuola non è solo il luogo in cui si apprendono concetti puramente nozionistici. Tramite il coinvolgimento educativo ed emotivo dei ragazzi, la scuola diventa un posto in cui creare nuovi legami, nuove consapevolezze e nuove emozioni. La scuola è inclusione. La scuola garantisce il futuro. I giovani sono il futuro. Un pianeta limpido dove ti specchierai e un futuro per i figli tuoi. Ma di fiumi e oceani, chiari come non mai, se rispetti le regole anche tu ci sarai. Ma di fiumi e oceani, chiari come non mai. Ciao